Vai! Aspetta! Vai! Un po' di più! Eh, eh, eh! Stai registrando! Si, sta registrando! Allora, Mattia Franceschi? Si! No, c'hai il nome d'arte? No, niente, non c'hai il nome d'arte, 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 non c'hai il nome d'arte? Ah, non c'hai il nome d'arte, niente! Come si chiama? Si chiama un sogno di una vita? Sono preparato, un sogno di una vita! Eh? Un Pucua! Il tempo di una vita! Il sogno di una vita! Il sogno di una vita! Il sogno di una vita! Quanto c'è? Quanto c'è? Quanto ha iniziato? Quanti... SONO CI.A. 45 secondi? SONO CI.A. 3 card? io ho fatto anche bellissimo perché al tempo di un co 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 come si chiama il film il tempo di un tempo di un co 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 no è sempre id e id questo qui con gli occhiali si andava molto tipo cioccolone che stava facendo adesso dove siamo allora siamo in una decisione a un fast food si che si può dire al mcdonald ho anche lavorato qui dentro quindi posso fare cosa voglio va bene allora siamo vicino alla stazione ammiriamo bellissima la porta per far capire che ci possono andare tutti anche te simo anche io sì però sei la quarta figura che non si vede sapevo che avrebbe guardato la porta allora innanzitutto presenta un attimo che fa nella vita il signor franceschini sono studente in cerca di impiego e al momento cerco di prendere l'aurea di darvi in che cosa? lettera filosofia storia tu sei nato a? Senigallia che si trova in? Senigallia si nelle Marche nelle Marche quindi lui è un uomo di Marche quindi è un uomo di Marche si vado un attimo a suicidarmi il fisico ha già tutto lo puoi avere quindi ti succede su altri giorni voglio dire allora che io il signor franceschini video serie a te e lei vado a lavorare insieme in un colpo in un funerale guarda con questa faccia Simo troppo adatta a te siamo stati ma fai molto? no siamo stati buonasera dammi dammi siamo siamo allora vi c'è scritto leggi che c'è scritto ho sei anni leggiamo ho un sei anni che ho bisogno di una relazione di tradizionale in fronte da Roma ti prego aiutami non lo so una filologia passeggiata con questa bene Simo quanta intenzione hai di dargli i soldi? quanti soldi hai intenzione di lasciarli? non è un po' quanti soldi hai intenzione di lasciarli? se basta bisogna dover quel culo bisogna dover grazie ma nemmeno comunque non è un po' quanti soldi hai intenzione di lasciarli? nemmeno comunque torniamo al nostro Francesco Franceschi comunque torniamo al nostro Francesco Franceschi Francesco Franceschini esiste davvero tra l'altro? si 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 allora Mattia ma quante anni hai? ho 26 anni tra poco 27 quelli da libero e quelli invece di galera un po' erati? quanti te mancano? è ancora un po' c'è purtroppo l'omicidio non è legale non so perché nemmeno il suicidio infatti prima muore e poi ti arresta si terribile è una cosa in un uciliare lui farà il migliore amico di Simone si non è corto è proprio il migliore il migliore non lo fa il migliore amico innanzitutto di chi è questo cortometraggio questo cortometraggio è del scusate primo piano indietro ok vai attimo anche se questo è questo cortometraggio quando mi giro la tagliamo questa chi la deve? no aspetta che continui ad esserci perchè ti chiamare la città di nobbra devo porti questo porto è l'opera di un nuovo dio che sta per nascere che è nato da un mese nemmeno qualche mesetto diciamo ovvero Andre e Massimo che si spera no dillo però come si dice è Massimo Andre Massimo Andre Massimo ce la potrà fare prima o poi il problema è che in questo momento mi tocca fare Simo ma Andre salutiamo il socio Andrea Semboloni chiamato Enea non so perché mi ha mandato tre nomi uno peggio dell'altro e il migliore Renea comunque c'era una sdrubale oppure no c'era tipo uno era a jesus che ha detto no per favore facciamo diciamo un massaggio un massaggio serio che cerchiamo donne insomma tutto per il signor Poeta Sorriser che ne ha bisogno no per Lele Poeta Sorriser è soprannomato Lele ne è colto perché ne ha bisogno è solo si sente solo per favore la mano è guasta la mano è guasta Federica è morta Federica è morta Federica si è morta c'è Manola e Federica Manola sei infortunata io sono Roberto 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 è gamba aperta o toccami una tetta comunque Roberto è il mio personaggio ragazzi siamo seri una volta allora con quelle facce ricordiamo con quelle facce con questa faccia qui che è stanca e il signor della vita lo rivolgiamo su youtube tra un po' iniziano le riprese cerchiamo il facebook e cerchiamo le comparse vi raccomando ragazze non vogliamo essere volgai un bel aspetto se venite vi farò baciare in bocca da guardate che bella sembra Gesù potete dire di essere stati baciati da una luce da una luce divina bravo spero ma si può riprenderti come entri sono una cosa del genere ragazze se parteciperete con lui sarà che vi sazierà per una notte si spostano fuori, si spostano fuori si spostati Simo, si spostati Simo mamma mia no perchè c'è quanti tagli ne va a fare? no no c'è il sosia di Mattia ok? ok ricordiamo allora ricordiamo abbiamo già un sosia il signor della vita il signor della vita si spera ottobre, settembre quando? non si sa ottobre siamo ottimisti il primio di ottobre si spera che sia già pubblicato adesso Simone non sa che verrà ripreso mentre farà una cosa ganza dietro di noi, un pochino fin dietro, ci sono due figlione, una è grossa Simone andrà lì e gli chiederà se vuole fare la partecipazione del cortovesione no no però con gli occhiali però con gli occhiali laggiù no c'è il permesso della rigenitori? se non è che non è contenta ecco allora vai no collega di che? dell'azienda Office come lui come lui come lui comunque sto vivendo per graffi io ti rompe facebook vedi salutiamo youtube salutiamo facebook ciao Kei io sono Lele è Lele è quello disperato di chi ci riserva è quello disperato è quello disperato muovete a tornare eh ok saluto a tutti ciao Andy basta salutiamo salutiamo basta facciamolo più serio io ho già ci parlato è fatto ciò pone serio fare ciò siamo ieri 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 Grazie.